Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta, freddo al cielo, o bambino mio divino, io ti vedo qui a crema. Anche quest'anno come compagnia di Via Carducci siamo riusciti a fare il presepe. Abbiamo anche celebrato i 30 anni di attività e speriamo di continuare il nostro cammino. Abbiamo avuto molte presenze e siamo contenti del nostro risultato e dell'affetto della popolazione. Noi ringraziamo tutti come compagnia di Via Carducci e speriamo di proseguire anche in avvenire e vi aspettiamo all'infiorata del 2019. Quanto tempo ci ha voluto per fare il presepe? Hanno iniziato dal 1 di ottobre e l'hanno finito il 24 di dicembre. E quanti erano? In due Luigi Massabò e Augusto. Abbiamo delle statue che hanno la bellezza di cent'anni, ancora quelle vecchie di una volta. Abbiamo messo la carta come si usava una volta, ne abbiamo aggiunto dei pezzi nuovi perché naturalmente man mano che si adopera la vecchia si rovina e bisogna rinnovarla. Ho visto che ci sono movimenti. Anche questi noi ne mettiamo pochi perché non è che ci piacciono tanto le statue in movimento. Il presepe a noi ci piace più tradizionale. Un augurio di proseguire e di accontentare la nostra città. Un augurio di proseguire e di accontentare la nostra città. Come vieni a penare su questo piede. Forse amore del mio cuore dove amore ti trasportò. Un augurio di proseguire e di accontentare la nostra città. Un augurio di proseguire e di accontentare la nostra città. Un augurio di proseguire e di accontentare la nostra città. Un augurio di proseguire e di accontentare la nostra città. Un augurio di proseguire e di accontentare la nostra città. Un augurio di proseguire e di accontentare la nostra città. Grazie a tutti.